Si era addormentata in treno e quando si è risvegliata nei pressi della stazione di Montevarchi si è accorta che le era stata rubata la carta di credito, vittima del furto, una giovane originaria della provincia di Siena. L'episodio risale allo scorso autunno ed adesso, grazie ad accurate indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, il presunto ladro, un pregiudicato nigeriano ben noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e denunciato. La donna infatti aveva raccontato di aver subito il furto sul treno regionale lungo la tratta Firenze-Arezzo e di essersi addormentata in prossimità della stazione di Figline Valdarno. Data la vicinanza con lo scalo ferroviario di Montevarchi, dell'indagine si è occupata la stazione Carabinieri del centro valdarnese. Gli investigatori hanno così portato avanti indagini a 360 gradi e sono riusciti anche a ricostruire una serie di transazioni effettuate proprio a Montevarchi. In particolare sono state decisive per identificare l'uomo le immagini immortalate dalle telecamere interne di un negozio cittadino all'interno del quale il pregiudicato nigeriano si era recato per acquistare un orologio ed altri beni di consumo, acquisti per una cifra non particolarmente rilevante, poco meno di 100 euro, ma che lo hanno comunque incastrato. Per lui è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Arezzo per indebito utilizzo di carta di credito e pagamento e per ricettazione. La carta infatti era certamente di provenienza furtiva, sebbene non ci siano attualmente elementi sufficienti per affermare che a rubarla sia stato proprio il giovane nigeriano.